Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa diciottesima puntata del podcast di Marcosbox. Come prima cosa fatemi fare una dedica a mio amico Mirko, usa perché, mi dispiace tantissimo Mirko, un abbraccio e coraggio, passerà tutto questo brutto momento. Passiamo adesso alle notizie del mondo del software libero open source. Sono state pubblicate le linee guida sull'acquisizione e riuso del software nella pubblica amministrazione. Sapete bene che la legge italiana sancisce che il principio secondo cui la pubblica amministrazione deve preferibilmente acquisire software open source e deve rilasciare in modo con licenza open source tutto il software che sviluppa. Adesso sono finalmente entrate in vigore le linee guida attuative e sono appunto degli indirizzi di prassi di tutto quello che devono fare le pubbliche amministrazioni d'ora in avanti. Tutti i software che di loro proprietà acquisito negli anni passati e che svilupperanno in futuro deve essere pubblicato su Developers Italia. Le pubbliche amministrazioni dovranno svolgere quindi una valutazione comparativa prima di acquisire del software privilegiando le soluzioni open source già sviluppate da altre amministrazioni. Lo sviluppo di nuovo software e l'acquisizione di licenze di software proprietario deve essere motivato dove in avanti. Infine, tutto il software sviluppato per conto della pubblica amministrazione dovrà essere reso disponibile con una licenza open source in un repository pubblicamente accessibile inserito nel catalogo di Developers Italia. Questo favorirà principalmente la competizione tra fornitori consentendo anche a quelli più piccoli di poter entrare nel mercato dello sviluppo di questi software. Quindi sparisce il lock-in come avveniva ora e potranno nascere tante piccole software house specializzate in questo settore. Il tema per la trasformazione digitale ha predisposto anche una serie di strumenti per facilitare l'applicazione della legge. Gli allegati tecnici della linea guida che descrivono le semplici azioni che un fornitore di un software deve effettuare per adempiere all'obbligo di rilascio in capo di amministrazione che commissiona lo sviluppo e il catalogo del software nel sito Developers Italia dove ci saranno tutte quante le schede dettagliate, screenshot, link diretti al codice sorgente e valutazione delle soluzioni disponibili. Buono notare che tutti quanti potranno rendersi conto subito se quel software fa al caso loro per la propria pubblica amministrazione. Il catalogo è praticamente di fatto un motore di ricerca avrà un suo crawler interno che cerca automaticamente tutto il software pubblico nei siti di hosting GitHub, GitLab, Bitbucket e così via. In ciascun repository di codice sarà sufficiente inserire un file di metadati appositamente formattato secondo delle specifiche chiamato publiccode.yml che contiene tutte le informazioni descrittive dalla funzionalità del software, i requisiti, lente titolare il manutentore che è incaricato la data di scadenza del contratto di manutenzione gli ambiti di utilizzo, la rispondenza alle normative e tutto e quant'altro. Quindi ciascuna amministrazione dovrà una tantum dichiarare il sito di cod hosting scelto e da quel momento il crawler inizierà a acquisire tutto il software pubblicato e i relativi aggiornamenti. Quindi non dovranno fare nulla di difficile e soltanto questa fase iniziale una volta che questo sistema andrà al regime sarà praticamente automatizzato. Quindi finalmente buone notizie per quanto riguarda il software libero open source anche in Italia. Questa settimana c'è stato anche un articolo da parte di Enrico che è tornato con la sua maglietta bianca d'ordinanza e ha pubblicato un'interessante recensione del Chromebook. Enrico ha acquistato un Chromebook e quindi ha dato i suoi punti di vista su quelli che sono i punti di forza di questo sistema operativo sviluppato da Google e anche nello specifico del suo device. Andatevi a leggere che è molto interessante. Questa settimana è stato rilasciato anche Krita 4.2.0 offre miglioramenti delle prestazioni e miglior supporto alle tavolette grafiche. Infine, ultima notizia della settimana in rilascio di DraftSigth 2019 SP1. Si tratta della prima versione di, diciamo così, bug fix, release, di manutenzione della versione 2019 DraftSigth. Vi ricordo che resta gratuito per Linux e Mac OS ma da quest'anno diventa a pagamento per quanto riguarda Windows. Comunque, questa versione va a migliorare la stabilità e correzioni di bug per quant'altro su Ubuntu e Fedora. Quindi ci sono buone notizie per noi pinguini. Bene, con questo concluso. Puntata molto breve, lo so, però. Questa settimana non ho avuto modo di postare molte notizie. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo la prossima settimana con una puntata magari più ricca di notizie. Ciao, ciao.